Il miele è un alimento prodotto dalle api tramite la trasformazione del nettare dei fiori ed è un antibatterico e antibiotico alleato dal sistema immunitario. Ha benefici su tutto il nostro organismo, ha un'azione decongestionante e calmante della tosse, aumenta la potenza fisica e la resistenza dei muscoli, protegge e disintossica il fegato, regola, protegge e stimola l'intestino, è un diuretico, antianemico e fissa il calcio e il magnesio nelle ossa. Ogni tipo di miele ha le sue proprietà. Il miele di acacia protegge l'apparato digerente, il miele di bosco aiuta negli stati influenzali, il miele di arancio ha proprietà cicatrizzanti, spasmodiche e sedative. Il miele di girasole è antinevralgico, febbrifugo e combatte colesterolo cattivo. Il miele di erica ha azione anti-aromatica e anti-anemica. Il miele di tiglio è calmante, diuretico e digestivo. Il miele mielefiore disintossica il fegato. Il miele di timo ed eucalipto è utile in caso di infezioni respiratorie. Il miele di castagno è ricostituente e orimineralizzante. Vediamo alcuni rimedi naturali con il miele per migliorare la nostra salute. Disintossicare il corpo. Gli enzimi e gli antiossidanti contenuti nel miele sono utili per favorire l'eliminazione delle tossine accumulate nel sangue. Questi composti, uniti gli acidi naturali dell'aceto di miele, migliorano la funzione degli organi e riducono il rischio di danno cellulare. Bisogna far scaldare una tassa di acqua e aggiungerci un cucchiaino di miele e uno di aceto. Da bere a digiuno per almeno due settimane consecutive. Rafforzare il sistema immunitario. Con le sue proprietà antibiotiche e antivirali, il miele è un ottimo integratore per velocizzare la guarigione. Il miele biologico crudo è ricco di vitamine, minerali ed enzimi che proteggono l'organismo dai batteri e stimola il sistema immunitario. Per renderlo ancora più potente, si aggiunge il succo di un limone e un cucchiaino di scorza grattugiata. Si fa sciogliere una tassa di miele a bagnomaria. Aggiungere il succo e la scorza di limone e si lascia raffreddare a temperatura ambiente. Da consumare a digiuno, da solo o diluito in acqua tiepida. Contro il mal di testa. Grazie alle sue proprietà rilassanti e anagesiche, il miele è un ottimo alleato per combattere il fastidioso mal di testa. Abbinato ai chiodi di garofano, che migliorano la circolazione e riducono le infiammazioni, il composto avrà ancora più benefici. Si fa sciogliendo bagnomaria e una tazza di miele con l'aggiunta di una decina di chiodi di garofano. Trasferire il tutto in un contenitore e lasciarlo riposare per 24-48 ore. Passato il tempo, diluire due cucchiai in una tassa d'acqua, da bere quando si presenta il mal di testa o con dolori muscolari. Aiutare la digestione. Le proprietà antissetiche del miele riducono l'acidità di stomaco, migliorano la digestione e neutralizzano i gas. Unito le proprietà digestive e antinfiammatorie dello zenzero, sarà in grado di accelerare la guarigione da vari disturbi gastrici. Si fa bollire una tazza di acqua e si aggiunge un cucchiaino di zenzero grattugiato e uno di miele. Farla riposare per 10 minuti, poi filtrare e bere. Da bere appena si sente fastidio allo stomaco due volte al giorno. Iscriviti al nostro canale per non perderti i nostri prossimi video!